della sua voce. Avete sentito questa canzone? Neandertal Man, è talmente famoso questo uomo di Neandertal. Perché è così famoso l'uomo di Neandertal? Beh, l'uomo di Neandertal è famoso perché rappresenta una fase, una tappa molto importante nello sviluppo della linea umana. Della forma umana, insomma. Della forma umana. Senna, ma perché si chiama di Neandertal? Si chiama di Neandertal perché fu trovato per la prima volta in Germania in una località detta Neandertal perché si trova nella valle del fiume Neandertal. Ah, ecco, la valle del fiume Neandertal. E' tale, in tedesco vuol dire valle.